Partiti anche i 25 giri della finale ad eliminazione della categoria senior maschile, 100 mm, la prima campana è a meno 18, la prima eliminazione a meno 17, si elimina un giro sì, un giro no, anche in questo caso sempre nei giri disperi, fino alla campana di meno 4, quando si comincerà ad eliminare ogni giro. Abbiamo un gruppo già bello compatto e da guerretto con nomi internazionali anche nella storia della nazionale italiana come Matteo Angeletti, campione europeo in Austria, nell'americana nel 2015 e poi anche risultati dai campionati italiani di quest'anno, Riccardo Bossi ad esempio, un bronzo nella 10.000 punti legati all'inascere a Bellusco e ancora Mattia Fioretti, anche lui ha preso parte alla competizione europea con l'Aquila, poi ha tenuto a Bellusco al campionato italiano nella 10.000 punti un argento, a Cassano invece nella 10.000 punti su strada un bronzo. Insomma, nomi davvero davvero più importanti a questo 36esimo, Memoria Arturo Fonzetti. Meno 20 al passaggio. Campana di meno 18, dal prossimo giro cominciano le eliminazioni. 5, 8, 6. Meno 16. attenzione, attenzione, saltano due eliminazioni ragazzi, attenzione, attenzione sul rettilineo. Prossima campana di meno 12. Prossima campana di meno 12. Prossima campana di meno 18. Nel prossimo giro riportano le eliminazioni. Prossima campana di meno 18. 43 ha morito 43 eliminato al precedente passaggio 43 deve fermarsi numero 43 è stato eliminato 43 deve fermarsi numero 53 08 campana 08 1, 7, 8 1, 6, campana di 1, 6 620 campana di 1, 4 dal prossimo passaggio eliminazione ogni giro eliminazione di meno 3 117 117 eliminato si elimina anche a questo passaggio 3, 6, 6 con il prossimo passaggio con Isani campana dell'ultimo giro l'ultimo giro 14 14 10 117 spero 14 arrivo è l'atleta dell'alternario 15 10 16 20 15 16 18 18 19 22